SIGLA Presto! È Harry! Papà! Papà, vieni qui! Ron! Presto, sta rinvenendo! Harry! Harry, ti senti bene? Come si? Cosa? Dove sono? Dov'è Hagrid? Che ne è di Voldemort? Tranquillo, Harry. Hagrid sta bene. L'ordine ha lanciato incantesimi di protezione sulla Tana. Siamo al sicuro. Per ora. Non dovrei essere qui. Metto tutti in pericolo. Tiano, non devi agitarti dopo quello che hai passato. E poi... c'è il matrimonio, non possiamo andarcene. Matrimonio? Bill e Fleur? Te l'avremmo detto, ma eri leggermente svenuto. Ti conviene prepararti? Non puoi aspettarti che vada al matrimonio così. Fai con calma, Harry. Prenditi il tempo che serve. Ha ragione, Ron. Come posso trovare gli Horcrux se non so nemmeno andare a un matrimonio? Silente è morto. Dobbiamo finire ciò che è iniziato. Dobbiamo distruggere Voldemort. Mi chiedevo...